A cosa dovremo guardare nella notte tra domenica e lunedì per capire lo scenario post-elezioni? Sicuramente un dato importante sarà quello dell'astensionismo o della partecipazione. Già questo sarà un'indicazione di come sono andate, nel senso che le ultime elezioni, cinque anni fa, hanno visto la partecipazione del 53%, questa volta i sondaggi dicono che saranno anche meno del 50%. Quindi tenere presente questo dato perché questo è un dato che poi si rivelerà importante perché mostrerà quanto l'elettorato ha risposto a un appello a votare per l'Europa, perché comunque è importante votare per l'Europa al di là del partito che si vota. Quali sono le sue previsioni in merito alle percentuali che prenderanno i partiti? Questo sarà un'occasione per molti per esprimere un voto puramente politico. Ora i sondaggi degli ultimi giorni danno la Lega sostanzialmente al 30%. I 5 Stelle sono il partito più esposto perché la partecipazione può avere un effetto sul voto 5 Stelle molto più che per gli altri partiti perché è proprio tipicamente un voto che ha espresso fino adesso un voto o di protesta o di adesione anti-partitica, anti-sistema. Quindi sarebbe contraddittorio andare a votare per esprimere un voto anti-sistema. Non vado a votare se sono... E questo tra l'altro è il dato più significativo che emerge dai sondaggi recenti. Allo stesso tempo penalizza però il Partito Democratico che è il partito che più è stato visto, che più ha rappresentato una certa idea di Europa nell'elettorato. anche di sinistra, cioè il voto, anche quello dell'anno scorso, è stato un voto contro le politiche che il PD ha seguito e anche in Europa. Non basta dire siamo europei, bisognava dire quale Europa vogliamo, quali europei siamo. Quindi questo ci porta anche a parlare per esempio di più Europa che ha deciso, proprio Europa con il movimento di Pizzarotti hanno deciso di fare corsa solitaria, diciamo separati dal PD, con il rischio, come tante liste, di non arrivare alla soglia del 4%. Lo stesso discorso vale anche poi per le altre liste, per la sinistra, così come per i verdi, però sono anche abbastanza diversi poi dai verdi tedeschi o svedesi nelle loro politiche. Tuttavia sono convinto che sia i verdi che la sinistra che più Europa riusciranno ad avvicinarsi al 4%. Mentre Forza Italia per esempio io la vedo abbastanza fuori dai giochi, non riesce a riprendere il voto moderato che ha perso già in parte con le ultime elezioni, questa politica di Salvini fino ad adesso ha pagato nel tenere insieme il voto moderato. Sopra quale soglia i rispettivi partiti potranno dirsi soddisfatti? Allora facciamo un po' di toto, la Lega sicuramente è sopra il 30%, 5 Stelle direi saranno soddisfatti, saranno molto contenti se saranno sopra il 25%, saranno soddisfatti se saranno sopra il PD, il PD credo che sarà soddisfatto se supererà il 20% e quindi invertendo una tendenza molto negativa, molto pesante rispetto alle ultime elezioni. Forza Italia probabilmente se la perdita è contenuta saranno soddisfatti rispetto alle politiche dell'anno scorso, però bisogna anche vedere come va la Lega per Forza Italia, perché per Forza Italia può essere importante che la Lega tenga molto bene e anche perdendo, perché questo vuol dire che la Lega ha mantenuto l'elettorato moderato e allora in una prospettiva di governo può essere interessante. Per gli altri naturalmente saranno soddisfatti se supereranno il 4%. Rischiamo di dover andare al voto in Italia dopo queste europee? Se la Lega esce molto forte la tentazione sarà quella di dire adesso voglio io quantomeno la guida del governo. Dipende un po' dal risultato, ma sicuramente ci sarà un cambiamento nei rapporti di forza governativi oppure un cambio di governo, oppure se poi la negoziazione non va avanti, un cambio si va poi alle elezioni, ma all'elezione a questo punto ci si può andare solo dopo l'estate, che vuol dire sotto finanziaria e quindi sicuramente il presidente Mattarella non accetterà una situazione del genere. È possibile ipotizzare un'alleanza PD-Movimento 5 Stelle? Non nell'attuale legislatura. No, nell'attuale legislatura è impensabile. Non ci sono le condizioni politiche, sarebbe un suicidio per entrambi politicamente.